Carissimi amici, oggi torniamo nella serie di Mr. Meat Perché finalmente i Keplerians hanno dato una nuova immagine ufficiale di Mr. Meat 2 Con tante novità, tante cose nuove da scoprire Quindi andiamo a scoprire tutte quante queste cose insieme Ma come sempre c'è stato tantissimi like Lasciate il più like possibile per supportare la serie di Mr. Meat E se vi piacciono questi tipi di video, questi tipi di giochi Iscrivetevi al canale, attivate la campanellina Ma adesso i diritti di partire Cominciamo, tocchiamo prima gioca Andiamo un attimo qua in partita Giusto per farvi vedere un po' come sarà Mr. Meat 2 Il secondo capitolo uscirà quest'anno È già stato confermato dai Keplerians Preparatevi perché oggi vi farò vedere pure una nuova immagine ufficiale Ok, andiamo di qua Iniziamo a rompere questa porta shot di qua Vai, che bello Macellaio, dove sei? Vieni qua, caro macellaio Ok, andiamo di qua Per fortuna il macellaio non sente quando noi rompiamo il vetro Però adesso sentirà perché ho fatto cadere di qua Quindi adesso prepariamoci infatti Caro Mr. Meat Come stai? Sei pronto a finire in carcere? Sei pronto a finire in prigione? Per chi non lo sapesse Mr. Meat 2 è ambientato in prigione Infatti la storia del macellaio è questa Noi prima veniamo qua Salviamo Amelia Poi torniamo una seconda volta Salviamo Rebecca E infine torniamo una terza volta Per arrestarlo definitivamente E all'interno di Mr. Meat 2 Andremo a scoprire nuovi segreti Che riguardano proprio anche il passato del macellaio Guardate qui infatti Qui ci sono delle foto Foto della sua famiglia Che fino hanno fatto queste persone? Una vabbè la conosciamo È Rebecca La figlia del macellaio Che è rinchiusa all'interno del coso Vabbè È rinchiusa Rebecca è stata rinchiusa È stata imprigionata Dopodiché C'è pure l'altra figlia Che è sparita Che non si sa che fine abbia fatto Io però devo cercare le tongs Non so Dov'è? Macellaio Dov'era? Ma da dove è uscito fuori? Da dove è uscito fuori sto cosa? Caro macellaio Che tu te le sbocchi così a caso Sono qua Sono qua Vieni 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 Saliamo 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 Vado a cercare subito le tongs Che sicuramente saranno a sto punto Nella stanza di Mr. Meat Nella sua stanza da letto Ok sì Stanno di qua Meno male Meno male Prese subito È di qua Vieni qua macellaio Ma ce la farò ad andare lì in quella stanza Per aprire lì la cosa Su su scendi Perfetto Vorrei andare un attimo da Rebecca Gentilmente se mi fosse possibile Ciao macellaio Guardatelo lì Da sotto lo abbiamo visto L'abbiamo visto da sotto Su su vieni qua Che adesso faccio rumore Così scendi subito Meno male Eccolo qua Il nostro caro macellaio Macellaio Inutile che stai qui fermo Che fai l'angolo e poi ti fermi Io sto andando di qua Non è che sto andando chissà dove Via 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 Corriamo 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 Perfetto Andiamo qui nella soffitta Chiudiamo subito la porta Quindi chiodo numero uno Chiodo numero due Chiodo numero tre Ho detto chiodo numero tre E chiodo numero quattro Questa la droppiamo di qua Adesso ce ne andiamo direttamente a salutare Rebecca La figlia del macellaio Bene sì Su Mr.Mitt2 Ci saranno tante cose da scoprire Ad esempio Che figlio ha fatto La moglie di Mr.Mitt Sappiamo una cosa Mr.Mitt aveva una moglie E due figlie Una è rimasta Qua No Ma dai Dovevo usare il bug per uscire Perché mi è caduto Perché Adesso devo risalire Su macellaio Vieni qua va Vieni qua che io devo risalire di sopra Sennò che adesso io non so dove sta Quindi aspetto che scenda di qua Eccolo qua Ho fatto bene a non risalire Altrimenti me lo sarei beccato Ma dai Ma mi è sceso il personaggio Mi è sceso E come faccio ad andare a dare becca così Eh Se Poi il personaggio scende Allora Rifacciamo il bug di prima Saltiamo qua sul tetto Andiamo sopra il capanno Andiamo sopra la siepe E cerchiamo di uscire fuori dalla mappa Ok Ma di qua Stavolta non mi ha covaccio Mi ero covacciato Perché volevo vedere meglio Quel percorso che stavo facendo Perché quando c'è qui la curva Un serio problema Perfetto Ce l'abbiamo fatta Ok Andiamo di qua Scendiamo subito sotto Sì E adesso possiamo raggiungere Rebecca Andiamo qua Rebecca cara Allora Su Mr.Mitt2 Molto probabilmente Scopriremo anche i nuovi segreti Che riguardano lei Innanzitutto Scopriremo che fine ha fatto la moglie La moglie ha fatto una cosa brutta Qualcosa di terrificante E il macellario ha deciso Di cacciarla via di casa Insieme all'altra figlia Invece Rebecca ha deciso Di tenersela Ma è diventata in questo modo Abbiamo scoperto che alla fine Non è stato Mr.Mitt Di averla trasformata In un magliero umanoide Ma è stata lei Che è caduta dal pozzo Si è ritrovata nel pentolone gigante Del macellaio Ha bevuto un sorso Della pozione segreta Ed è diventata Un maiale Chissà se scopriremo pure Altri segreti collegati Con la serie di Evil Nun E Ice Cream Dopotutto il macellaio È un tatuaggio Con Sister Madeline Qui sul braccio Quindi potremmo scoprire Anche delle cose nuove Che riguardano appunto Il collegamento fra Il macellaio E la sua retta Io non vedo l'ora Di scoprire tutte quante Queste cose insieme Adesso è arrivato il momento Di aprire la porta Devo cercare di raggiungere Il bunker Ma non Non credo di riuscire Ad aprirlo in questo video Vabbè proviamoci Vediamo cosa riusciamo a fare Dobbiamo innanzitutto Prendere la chiave Per andare nella fattoria Quindi vediamo se troviamo Qui sotto la chiave Andiamo giù in cantina Chiavetta Dove sei? Oh Chiave verde L'abbiamo trovata L'abbiamo trovata Adesso possiamo uscire Subito fuori di qua Andiamo ad aprire subito La porta della fattoria Perfetto Che poi devo dire una cosa Se Mr.Mette Ci dovesse prendere Prima di aprire sta porta Diventa poi difficile Riuscire a scappare Diventa molto difficile Perché poi c'è pure il maiale C'è il maiale Che ci rincorre E non è un maiale Come tutti gli altri No È un maiale mutante Nel senso che Prima era una persona E poi è diventato Sto coso C'è da essere umano È diventato un maiale Così Un maiale molto molto cattivo Qui dobbiamo fare tipo Rodeo Maiale Vieni qua Rollate col maiale Il nostro caro macellaio Mr.Mette No Mi ha preso il macellaio Sì che macellaio Mi ha preso sto maiale Chissà chi era sto maiale Nella sua vita precedente Ma che roba Siamo stati rinchiusi Qua all'interno Della prigione Del macellaio Dunque insomma Le cose da scoprire Sono tante Ci saranno tante cose Che noi andremo a scoprire Su Mr.Mette 2 E anche tanti nuovi spazi Da vedere Fidatevi perché la mappa Probabilmente sarà anche Bella grande Sarà inventata all'interno Di una grande prigione E chissà se questo potrebbe essere Anche l'inizio di una nuova serie Del macellaio in arrivo Chi lo sa Lo scopriremo molto presto Va bene Ma adesso è arrivato il momento Di andare a vedere insieme Le immagini che riguardano Mr.Mette 2 Le prime Purtroppo è che i playerians Questa volta Non hanno fatto un video Non hanno dato le news Sabato di questa settimana Comunque è la vigilia di Pasqua Quindi forse per questo motivo Non hanno fatto il video Però a chi lo sa Scusa il maiale Non viene più Ho fatto cadere qua il mangime Ma maiale Oh E c'è qua il cibo E viene a mangiare No Mi sa che si è buggato il gioco Mi sa che si è buggato Perché guardate Non viene il maiale Oh Era anche ora Mettiti a mangiare Va passa sta giornata a mangiare Via 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 Usciamo 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 Subito di corsa Vediamo se il maiale E ma cosa Ma subito di corsa Proprio Proprio un rush Un rush Cos'è Che stiamo facendo qua I volna rush Vabbè direi di passare direttamente Alle immagini di Mr.Mette 2 Per prima cosa Andiamo con ordine La prima immagine ufficiale Che abbiamo avuto Su Mr.Mette 2 È stata appunto questa Che raffigura la prigione Dove è ambientato il gioco La prigione del gioco Guardate qua È uno spazio veramente Molto molto grande Il macellaio è stato rinchiuso lì dentro È stato arrestato Per i suoi innumerevoli crimini Infatti lui rappiva le persone Le trasformava in maiale Vendeva la carne di maiale Ma non solo Perché ad alcune persone Tagliava pure le gambe E le collezionava Perché mai il macellaio Collezionava le gambe Delle persone qui Le tagliava Cioè Macellaio Perché faceva queste cose Ha fatto tanti tanti crimini Tante cose Rappiva le persone Ha trasformato persone Sua figlia In un maiale E la tenuta prigioniera Quanti crimini Ma insomma È già un miracolo Che l'abbiano messo qua in carcere Cioè Macellaio Ma che roba Ma tutte queste cose È fatto Ma perché Ma perché Scopriremo molto probabilmente Anche le origini del male A cui è stato sottoposto Perché lui prima Era una persona normale Poi è diventato cattivo Ma cosa è successo Per farlo diventare cattivo Su Mr. Mitt 2 Tra l'altro Conosceremo pure Nuovi personaggi Guardate qua Ben sette personaggi Ci saranno nel gioco A chi lo sa Se ce ne saranno altri ancora Qui ce ne sono alcuni Alcuni possiamo riconoscerli Come ad esempio Vabbè Il poliziotto Che compare anche Su Mr. Mitt 1 Poi c'è pure lo scienziato Che anche lui Era su Mr. Mitt 1 E poi altre persone ancora Probabilmente Queste due signore Che stanno qui di lato Potrebbero essere Una la moglie E l'altra la figlia Di Mr. Mitt Infatti Mr. Mitt aveva due figlie E la moglie Che però purtroppo Non sappiamo che Ve ne hanno fatto Soltanto Rebecca Abbiamo davanti Ma le altre due Signore Non sappiamo dove siano Non è escluso Che potremmo trovare Anche Amelia Su Mr. Mitt 2 Chi lo sa Amelia comunque è stata La prima protagonista Che noi abbiamo salvato All'interno del gioco Inizialmente su Mr. Mitt Lo scopo principale Era salvare Amelia Una volta salvata Non c'erano Tutti gli altri finali Che sono stati aggiunti Successivamente Andiamo sempre avanti Qua con la storia Un'altra immagine Che raffigura Gli interni Della prigione La stanza Quella dedicata Al telefono Dove si parla Tra i carcerati E i parenti Che stanno fuori Chissà se questa stanza Avrà un ruolo importante Chi lo sa Vediamo se altre immagini Sì abbiamo qua Ad esempio Vabbè Il logo ufficiale Di Mr. Mitt 2 Eccolo qua E qua invece Come sarà il macellaio Il macellaio Di Mr. Mitt Così sarà Così lo incontreremo Su Mr. Mitt 2 Sarà leggermente invecchiato Sarà vestito in modo Differente Avrò sempre con sé Il suo caro Prociuttore Hai bisogno Per capire Dove l'ha preso Ma chi è andato A dare sto prosciutto A Mr. Mitt Ma veramente Ma seriamente Qua ci sono altre immagini Ancora Immagini che comunque Fanno capire Che il gioco In fase di sviluppo Cioè il gioco Sta andando avanti Qua vabbè C'è un'immagine di William E Mr. Mitt In questo modo Sarà Cioè il macellario Tutto quanto arrabbiato E Va bene Ma adesso passiamo direttamente Alla nuova immagine Ufficiale Pubblicata Dai che Plarians E questa È la prigione L'ingresso della prigione Guardate com'è qui davanti Adesso ha una forma Molto più completa È fatto molto Molto meglio Rispetto a quello Che abbiamo visto prima Ma vediamo i dettagli Importanti Che ci stanno qua Ad esempio Qui davanti ci sta Un parcheggio Ci stanno pure Delle auto Il gioco sarà ambientato Di notte Quindi comunque vuol dire Che al buio Vabbè Dopotutto un gioco horror È meglio farlo ambientare Al buio No Ci sono due auto Qui davanti Chissà se queste auto Avranno comunque Un ruolo All'interno del gioco Dovremmo farci qualcosa Oppure no Chissà Forse c'è un finale In automobile Chi lo sa Questa è la porta D'ingresso Devo dire che comunque Lo stile grafico Adesso ho assunto Lo stesso Che c'è anche su Ivo Nan 2 E Ice Cream 4, 5, 6 e 7 Vabbè No Il 7 ancora non è uscito Possiamo pure vedere L'interno delle finestre Qui ci sono le stanze Beh Bella sta cosa Ci sono pure le stanze interne Guardate qua Possiamo notare L'interno della prigione Bellissimo Magari su questo Farò poi un'analisi Molto più approfondita Cioè ma cos'è sta cosa Ma c'è un oggetto Qui davanti Cosa mi raffigura Va bene Dai Comunque Tenetevi pronti Mr Meat 2 È in arrivo E che Plarence Un mese fa Hanno detto che la pre-registrazione Arriverà molto presto Io qua non ho visto ancora nulla Spero che esca presto E spero che possiamo Scoprire insieme Tutti quanti i segreti Che sono nascosti Quindi che dire Per il momento Direi di finire quel video Fatemi sapere cosa ne pensate Fatemi sapere Se voi non vedete l'ora Di giocare a Mr Meat 2 Spero che questo video Si è piaciuto Se vi piaciuto Mi raccomando Spallicciate Casi vi siete Iscrivetevi al canale Con la campanella attiva L'avventura non finisce qua Perché qui davanti a voi Compariranno ben quattro schede Con quattro serie differenti Cliccatele una Buona visione Ci vedo direttamente In una di quelle serie Ciao a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti E buon panino a tutti